La Juve Caserta 2.0 non riesce ad interrompere la striscia di sconfitte consecutive della Juve Caserta che contro Briansa colleziona la settima partita persa consecutiva che confermano l'ultimo posto in classifica della Juve Caserta che bisogna solo stabilire in base al risultato di Rieti se sarà ancora in compagnia della squadra laziale oppure resterà in fondo alla classifica in solitaria. Nonostante l'inserimento di Burotax e la partenza di Romano quindi un assetto nuovo per la Juve Caserta compreso il cambio di guida tecnica però da vedere la gara di questa tarda mattinata che in linea teorica doveva favorire Caserta visto che si allenano generalmente in orari abbastanza vicini non ha portato nulla di nuovo in pratica Caserta è stata realmente in partita 5 minuti con una buona partenza come le capita spesso ultimamente a 5 minuti dal primo quarto era in vantaggio di 6 punti 13 a 17 per poi collezionare un parzialone di Brianza costruito sul tiro da 3 punti in effetti da quel momento Brianza ha collezionato un 8 su 8 da 3 punti nonostante il cambio di difesa ordinato da Gocci e Bartocci passato a una zona 2-3 però è lì che Brianza ha scavato il sulco con un super parziale di secondo 4 35 a 20 che ha scavato i 18 punti di vantaggio che Brianza poi si è portato avanti durante la partita nonostante un terzo quarto in cui Caserta ha dato segni di vita arrivando anche a 6 punti all'inizio di 4-4 però la partita è stata in un certo senso segnata perché poi quando nel quarto quarto si è arrivati di nuovo a quella fascia di stacco di 8 punti 7 punti la partita si è di nuovo inceppata sulla stoppata subita da Zambogno con palla persa e contropiede schiacciata di Brianza e da lì poi Brianza ha di nuovo riportato le distanze a 16 punti 18 punti di vantaggio la considerazione che poi ha fatto su questa partita era che era sicuramente una gara che si sarebbe giocata sul ritmo Brianza è una squadra che ha un ritmo elevato un'altricità, una fisicità nei giocatori che le davano questo tipo di vantaggio dei miss match che ha saputo sfruttare partita di ritmo doveva essere, partita di ritmo è stata però il ritmo imposto è stato quello di Brianza dove Caserta ha fatto fatica soprattutto con i lunghi dove ipoteticamente poteva avere un vantaggio invece non è mai riuscito a sfruttare e pitturato diciamo il miss match di chili e centimetri da rivedere sicuramente le rotazioni e lunghi complici anche l'assenza di un giocatore come Romano che probabilmente in questa partita poteva essere super utile come una considerazione va fatta sull'utilizzo di May e di Lucas perché Caserta ha teoricamente un unico playmaker che è Zambugna ma Zambugna può fare 40 minuti e lo stesso apporto di Lucas e lo stesso apporto di May considerando anche l'assenza di May in questa partita si è fatta sentire anche questa sarà una riflessione sui futuri assetti di questa squadra che stasera ha palesato gli stessi problemi della versione 1.0 della Juve Caserta il coach Bartoccia ha molto da lavorare ha disegnato delle gerarchie che distribuiscono dei minutaggi su determinati giocatori che a meno in questa partita hanno fatto una fatica enorme da Rosario Pascarella è tutto un appuntamento alle prossime gare della Juve Caserta con Goldwatt TV Grazie a tutti